Gli altri perfettamente allineati, mezzo meccanico prende ulteriore velocità, parte piano Rita Ritz. Stacco della macchina con Rheinball Caffa che supera in breve Renoir OM. A largo Ravanera, terza in corda Rondinella Bartorra per corsie esterne Rosalina Griff. Il lancio in 14-1 con Renoir che si affaccia subito lungo l'arco della prima curva. Rheinball Caffa fa buona guardia, Ravanera che parcheggia terza davanti a Rondinella Bartorra, poi Rita Ritz, Ringo degli Olivi, in fuori la sola Rosalina Griff. Primi 400 metri in 29 abbondanti da parte di Rheinball Caffa che guida davanti alle tribune. Alle sue spalle Renoir OM precede Ravanera, si affaccia a largo Rondinella Bartorra che anticipa Ringo degli Olivi, il quale agisce su un binario solo e viene via, ma si getta di galoppo ai 600 in 45-1. La schiena di Rondinella Bartorra è seguita da Rita Ritz, Ringo degli Olivi che si rimette e si ricongiunge immediatamente. Quando Rheinball Caffa e Rondinella Bartorra mettono assieme 800 metri in un minuto e cinque decimi. Rheinball Caffa di dentro, Rondinella Bartorra a largo, Rita Ritz a tiro, Renoir OM secondo, ma senza spazio, poi Ravanera e Ringo degli Olivi. Rondinella attacca, Rheinball Caffa a buona guardia, al chilometro completato in 1.16. 5.50 e si viene a casa, Rheinball Caffa in evidenza nei confronti di Renoir OM. A largo Rondinella Bartorra in pariglia, Rita Ritz, poi Ravanera. Si va all'attacco della curva finale, il paletto di fronte in 14.17, poco meno di 1.31.75 di Rheinball Caffa. Rondinella che sembra leggera crisi, viene via in terza ruota, Rita Ritz, Renoir che vorrebbe sgabbiare quando mancano 200 metri alla conclusione. Rheinball Caffa in vantaggio nei confronti di Renoir OM, Rita Ritz, Rita Ritz che scatta a largo, Rheinball Caffa che è richiesto, Renoir di dentro, a centro al palo, Rheinball Caffa in vantaggio, su Renoir di dentro e Rita Ritz a largo, Rheinball Caffa che porta a casa la vittoria, davanti a Renoir OM che fa solo il secondo nei confronti di Rita Ritz. 2 minuti abbondanti, 29.7 gli ultimi 4, 1 minuto tondo tondo, il mezzo miglio terminale. 1.15.3, la media alla chilometra, sono 5 vittorie e 2 secondi in 7 uscite dell'annata per Rheinball Caffa. Le mani di Federico Rescio, i colori e il training di Giorgio Cassani. Al secondo posto il numero 2 di Renoir OM, al terzo una buona di Rita Ritz, sicuramente molto meglio rispetto a domenica. 4, 2, 1, l'arrivo del centrale.